Signore e signori buonasera a tutti e benvenuti qui a San Michele di Serino per questa Summer Cup la finalissima da un lato il mercogliano South dall'altro Erminio Mania speriamo che ci sentite bene ovviamente e soprattutto che vediate le immagini nitide cosa che ne siamo certi ora indubbiamente i goccioloni di turno a centro del campo per il solito rito palla o campo e poi sarà finalissima qui a San Michele tanto agoniata tra queste due formazioni spettacolo non spettacolo vedremo subito le due formazioni come si saranno vivisezionate in campo e poi partiremo a bomba con l'amico nostro Michelino Settebellizza buonasera a tutti spettacolo puro stasera qui a San Michele di Serino ci auguriamo una finale all'insegna di tanti gol e tanto spettacolo e soprattutto speriamo di non cadere da qua sopra e infatti anche questo è un fattore X comunque vediamo in campo il maestro il golden il pistolero equipog boom dall'altro lato Cicciottello in cabina di regia del sorbo poi Lupin giustamente spica il nostro Rambo già è partita proprio ora e quindi attenzione proprio a spica sulla corsia gira per Cicciottello vedremo se partiranno subito a fionda oppure realmente si guarderanno intorno ci sembra per ora partire subito con la palla tra i piedi la squadra del Sottmercogliano che vediamo belli carichi ma soprattutto di Panzer Michele è vero è vero vediamo che partono subito aggressivi attenzione e infatti subito poco boom per poco non si mangia qui sotto Lupin attenzione a Cicciottello c'è il destro sinistro ma non fa e quindi con le prove tecniche ci siamo o non ci siamo lo sapremo a fine gara importante esserci c'è sul punto di battuta il nostro spica la gira proprio per Lupin che la mette a terra destro secco Evangelo ci mette una manona santa realmente ottima la girata volante di Campino angolo per il Mercogliano che realmente è partito subito a proiettile calcio d'angolo palla centro può ripartire Cucciniello doppio Cucciniello amici miei addirittura la stessa cara una a destra una a sinistra chi per una e chi per l'altra squadra mentre spica comincia su quella corsia a fare il solco ovviamente bloccato da tutti i lati c'è Campino se ne può andare il Golden subisce fallo ottimamente il Cocciolone Parmigiano mette mano al Taschini e lo segnala quindi primo fallo a favore proprio dell'Erminiomania e quindi il Golden che può ripartire subito nell'altra metà campo poi c'è Santa Maria quindi il nostro maestro Girope Cucciniello ovviamente ogni episodio sarà difficile da contenere infatti subito Spicola va a recuperare se ne va tendo un cost to cost sulla sua corsia preferita ricordiamo la palla scivola infatti la chiappa sogna evangelista si distende letteralmente con facilità per la verità e quindi il ritmo ci sembra abbastanza blando le due formazioni forse Michele si stanno studiando sì si stanno studiando anche perché oggi è domenica e domenica ricordiamo ci sta l'esame lunedì l'esame domani si va a scuola quindi attenzione al maestro può puntare c'è il Golden Cucciniello è solo sulla corsia opposta ma scivola malamente non è facile nemmeno tenersi in campo bisogna scegliere i tacchetti giusti sarà dura infatti Cicciottello ha messo i cingolati attenzione a Spica agire proprio per lo stesso Cucciniello che cerca sulla corsia opposta non si capiscono i due quindi dopo qualche minuto è ovvio che c'è il maestro in campina di regia con attività dal Golden quindi un 2-2 puro eccolo qua proprio il Golden punto 1 avversario si è arrivato sulla corsia recupera un ottimo fallo laterale in fase d'attacco non sarà facile scalfire il muro il bulldozer Cucciniello il Cicciottello che messo lì a baluardo non riesce realmente poi a girare l'attenzione a Santa Maria c'è D'Argenio giro proprio su questa corsia Santa Maria se ne può andare double pass si libera il tiro per poco non inquadra lo specchio della porta buona la giocata di Pogboom e Rizzo solo il pensiero mi ha tristice sulla corsia opposta campino quindi Cicciottello guardatelo lì un bulldozer la gira perde il sorbo fra un nullo di avversario ancora Spica può tribolare sinistro destro palla piena fortunatamente per la squadra di Armino Maria è fallo laterale ma bisogna fare attenzione a Spica un folletto magico sempre pronto ad accelerare attenzione proprio a lui sul punto di battuta gira perde il sorbo mille piedi su quella corsia nemmeno il Cocciolone sa di chi è il fallo ma alla fine decide che è viola ma questo è un Cocciolone mai visto mamma realmente un Cocciolone pazzesco parmigiano parmigiano di giornata voglio dire fresco anche se è stagionato giocano sulla corsia attenzione al recupero palla c'è proprio Spica che va nell'uno contro uno supera il Golden gira sulla corsia opposto e poi la sparacchia fuori forse c'è Angolo se ne avvedo per un quarto d'ora il Cocciolone ma infatti sull'imbucato il destro e il sinistro destro di Spica deviazione netta e quindi Angolo e poi va a recuperare D'Argenio con Evangelista che la va a rimettere per lo stesso Santa Maria nei primi minuti, primissimi minuti un po' di artiglieria pesante e poco più un paio di occasioni ma va bene così Michele le due squadre hanno un po' paura di giocare ma ricordiamo in questo gioco l'importante per chi non lo sa è buttare il pallone nel sacco e si metterla nel sacco per andare in vantaggio allora c'è Del Sorbo, Ciccioltello, Spica sembra in effetti ad un certo punto che scavo le montagne di lenti attenzione beccato in pieno Del Sorbo l'Argenio non è dello stesso avviso comunque il Cocciolone festosi qua sotto blocca tutto mette palla al limite e ti devo dire Michele la verità ma Mercogliano è partito col piede sull'acceleratore e sta imbattendo molte occasioni d'attacco e per adesso si gioca una sola metà campo ma vedremo la partita è ancora lunga pochi sono i minuti ma ovviamente sul punto di battito manca a dirlo Ciccioltello pronto a sfondare la porta a barriera con un evangelista vogliamo la rete sfondata a barriera corallina hanno messo eccolo qua Cucciniello amici miei lo metti nell'angolino Mercogliano in vantaggio con il numero 4 Giuseppe Cucciniello vamos 1 a 0 attenzione allora Golden gira sulla corsia per l'Argenio ancora proprio lui testa cerca di liberarsi un paio di avversari testa a testa e poi c'è il recupero palla e la ripartenza velocissima di Gambino destra sinistro capovolcimenti di fronte emozioni continue fallo netto su Cucciniello che vorrebbe in vantaggio il Cocciolone dice di no punizione netta e quindi si chiariscono si sono subito chiariti infatti il Cocciolone si è fatto capire ha bloccato subito Cucciniello questo pitbull guardatelo lì che prova addirittura dai 60 metri addirittura c'erano i 4 secondi ma se faceva gol Cucciniello arriva giù il San Michele di Serino e veniva giù pure l'arbitro che l'ha fischiato infatti l'arbitro ha rischiato grossa attenzione a Santa Maria per ora Cucciniello e Compani non sono predisposti a metterla nel sacco attenzione proprio a Santa Maria Cucciniello d'Argenio eccolo qui 1-2 veloce ancora spiega che se ne va come un trattore destra-sinistra è solissimo Campino evangelista ci mette la faccia in tutti gli effetti beccato in pieno sta mantenendo in gara attenzione al recupero palla di Santa Maria scioccato per ora squadra di Armino Maria proprio con Cucciniello gira per il Golden tutto aperto grazie al portierone Cucciniello prova a liberarsi al limite tutto chiuso in realtà stiamo vedendo due squadre sornione che si giudono a Riccio e non fanno uscire null'altro che ogni tanto un ballone attenzione a D'Argenio gira per il Golden a testa bassa può provare vede ancora D'Argenio sulla corsia opposta prova sul palo a trovare Cucciniello angolo sembra dopo i minuti iniziali che il Mercogliano ha dato realmente una scossa alla gara ora l'Ermino Maria lentamente sembra aver preso posizione e pallino del gioco soprattutto c'è Santa Maria quindi D'Argenio ovviamente il Mercogliano tutto rinchiuso per poi ripartire proprio lo stesso D'Argenio e quindi prova a liberare palla per il Golden Cucciniello pronto il pistolero si libera poi gira per il Golden di punta Rizzo e poi il recupero palla dello stesso Cucciniello che va a giocare a catch a rugby e finalmente anche Rizzo prima parata caccia la testa dal sacco sì 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 il cinghialotto magico ci mette il pietone RG1 ovviamente c'è Santa Maria può provare a liberare al tiro proprio Cucciniello tutto chiuso la mette proprio con Rizzo ribattuto e quindi può ripartire del sorbo era solissimo attenzione a Santa Maria si infiamano un pochettino la gara molto a più velocità anche perché se ci bloccate i risultati eccolo qua proprio i Golden prova due tre rimballi e poi Rizzo agire per campino Cucciniello chiude tutto e se ne va si arma del solito passa montagna anche Cucciniello ovviamente ricordiamolo che la gara è lunghissima è proprio i Golden prova a chiudere qualcuno se ne va in un due contro uno attenzione quattro contro due c'è Cucciniello ancora da Rizzo Rizzo miracoloso un miracolo divino mamma mia proprio sulla linea di porta attenzione a Campino gara che si fa sempre più aspra attenzione al recupero palla e poi Cucciniello che se ne può andare di tacco la gira per Santa Maria può provare amici ancora Rizzo un'anaconda magico sempre lui che raggiunge ancora Spica tenta l'uno contro due contro tre si libera il tiro e c'è Angolo realmente Spica un castigo di Dio un'ira di Dio pronto subito alle ripartenze veloci realmente Angolo Mercogliano che ha dato l'input e ora è in vantaggio ricordiamolo attenzione ancora i mancialisti sulla linea di porta per poco non la scapocchia malamente Michele Mio la scapocchia per pochissimo la palla non entrava nel sacco ricordiamolo 1 a 0 per il Mercogliano e non tutti ci credevano ora attenzione al numero 17 guerriero tende un'imboscata delle sue ma recupera subito palla Santa Maria subisce fallo subisce fallo netto bisogna solo chiedere scusa Campino non se ne vede lo prende da dietro quindi fallo ovviamente c'è proprio tanta capabilità per il Golden che prova da tutte le posizioni del campo tutto chiuso tutto chiuso tutto chiuso stavo un attimo distratto c'era una signora sugli 80 che mi stava guardando ci vediamo dopo bella amici miei una nonnina malefica attenzione al Golden Girbert d'Argenio tutto chiuso dicevamo sono proprio a motilombo di riccio i giocatori del Mercogliano e non si cava un ragno dal buco attenzione per ora sulla corsia c'è proprio il Golden gira qui per D'Argenio Santa Maria si fa vedere ottimo l'1-2 veloce il Golden scolata e poi chiedono un calcio di ricordo cicciottello non si riporta attenzione la mette Luca capovolcimenti di fronte a destra e a manca mentre questi coccoloni qua sotto fanno un abbaltore pazzesco per poco non mandano non ci buttano anche da sotto ci è mancato poco il tirabattello qui cadda direttamente attenzione però ancora Santa Maria gira per Cucciniello può provare dalla distanza spara finta destra sinistro beccato cicciottello e ora c'è un 2 contro 1 proprio per Gambino ci mette ancora una manona Santa evangelista angolo e adesso la partita si è accesa ora ovviamente bisogna stare attenti nel frattempo cicciottello metta becca direttamente la fenza sulla corsia opposta in frattempo ricordiamoci che siamo sull'1-0 per il Mercogliano c'è il Golden becca Cucciniello l'1-2 che alla fine non riesce ma ora sembra gara vera e quindi realmente bisogna stare attenti in ogni occasione è ovvio che il Mercogliano tiene bene la melina e cerca di far uscire dal guscio con lanci ottimi attenzione a Guerriero non è facile beccare in pieno e quindi può ripartire subito l'Erminio Team ricordiamolo siamo qui su Sport Channel spettacolo uno spettacolo Instagram invece con San Michele di Serino Cup attenzione al maestro dette i tempi giri per il killer angolo entrato anche il killer anche lui ovviamente potrà dare una mano alla causa anche perché sotto di un'ingollatura ogni episodio sarà decisivo c'è Cucciniello giro corpo il campino testa a terra cavallo pazzo recupera palla d'Argenio che subisce fallo ovviamente dalla distanza non ci siamo ancora proprio il killer sul punto di battuta può provare a sfondare la porta con i suoi missili terraria quelli che abbiamo conosciuto negli anni del CUS proprio lui il nostro killer con il numero 21 qui dalla distanza RC1 tra i pali parte il killer niente da fare Cilecca c'è Santa Maria già a beccare palla proprio il dissorbo fra un nuvolo di avversari ci mette un piedone il Golden ottima gara soprattutto Astio in campo ma se le stanno dando di santa ragione e adesso siamo molto accesi qua credo che la partita continuerà su questi binari fino alla fine almeno della prima frazione poi si arriverà speranzosi che non arrivi il treno l'accelerato di battivaglia su questi binari attenzione a palla al centro c'è proprio campino la girma il guerriero guardatelo lì di esterno schifato guerriero scapocca a dire poco di esterno proprio schifato col piede nemmeno su e macino ricordiamolo bisogna spostare la porta per farlo segnare ricordiamo che il piede non è suo l'ha preso ieri in un negozio dell'usato giusto per la finale poi lo riporterà lunedì lentamente attenzione però è killer ottimamente Rizzo la tiene in campo e tiene a bate poi addirittura il dietro schiena del ciglio lotto magico c'è il cucinillo guerriero attenzione alla ripartenza del sorbo ovviamente ancora guerriero la mette fuori e ovviamente dicevamo che i ritmi erano alzati ma la verità è che c'è ancora il gol del di punto Rizzo e poi Santa Maria il nostro maestro poteva provarla direttamente e invece la spuccia malamente proprio ad un metro da Rizzo Santa Maria la va a recuperare vediamo che ci sono anche molti coccioloni qui in live a San Michele di Serino sulla cap di Instagram attenzione Antonio Guerriero si imbappero evangelista pazzesco lo fa commettere fallo ma amici miei Mercogliano ci crede attenzione al cucinillo prova solita pinta carra ma ha provato a scaricargli uno scaldabagno addosso ma in realtà fatto scilicca attenzione al killer ancora guerriero tenta un numero non se ne esce tutto chiuso poi c'è spica bloccato realmente da ognuno di loro che dicevamo siamo in diretta con Sport Channel e San Michele di Serino invece su Instagram ed è chiaro che siete una centinaia di voi la carica dei 101 ora sul punto di battuto c'è Cicciottello può provare direttamente un tiro a giro un disco volante partito male non va non va di molto devo dire però ci riproverò sì sì in effetti il nostro maestro circa in cabina di regina insieme a Santa Maria di ciccioneggiare non c'è spazio sempre una zero c'è il killer Golden dall'altro un po' lenti e compassati macchinoso sarei dire con il Golden tutto chiuso fa buona guardia Lupin aspira proprio al recupero palla lo stesso killer che recupera un ottimo calcio d'angolo è chiaro che bisogna stare attenti soprattutto in queste occasioni Santa Maria scivolo in campo non ci aiuta ovviamente c'è palla sulla linea cocciolone preciso come non mai palla sulla linea e ovviamente non l'ha messa sulla linea e quindi c'è rettifica almeno questo che ha deciso il cocciolone c'è lo stesso Santa Maria Girveri Golden può provare tra le gambe pro per Targenio sinistro destro e c'è angolo al fondo fondo i due coccioloni si intrecciano a sinistra a destra e alla fine tirano la monetina fondo eccolo così e quindi Rizzo dicevamo il nostro Rizzo va lì e dice solo e soltanto coccioloni miei lo spettacolo sarà così puro che non ve ne accorcerete nemmeno attenzione a Cisciottello cerca Spiga che è pronto a ripartire proprio contro il killer tentano 1-2 non si va da nessuna parte ricordiamolo 1-0 lunga cittata un po' lunga per la verità ma va bene così quando ormai manca pochissima la prima verso un governatore con il cinello che se ne va come un Panzer e supera un'altezza sinistra amici e che lo scappò in un modo pazzesco guerriero quell'ornitoring si è mangiato un gol pazzesco c'è ancora il recupero un 3 contro 1 ancora Spiga se ne può andare si libera destro secco di il gara da fiore il recupero palla e poi giallo giallo netto la becca in pieno e quindi si è accesa realmente la gara all'improvviso e ovviamente questo ne va dello spettacolo Michelino a me piacciono le gare molto accese ma l'arbitro dovrebbe essere bravo ad avere pugno fermo pugno fermo e se è il caso utilizzarlo attenzione ancora al killer stesso Pogboom giropalla per lo stesso D'Argenio ovviamente non è facile uccellarli sono belli chiuse e poi il campo è un pochettino scivoloso alla maitina e gol ma attenzione amici ma Pogboom va sull'esterno del palo Angolo l'illusione del gol illusione ottica ma Rizzo dice ancora no e ora c'è Armeria pesante in campo ancora dalla distanza Rizzo un duello contro la squadra dell'Erminio Mania che è pronto a ripartire attenzione a Gambino cavallo pazzo se ne va tutto chiuso la va a recuperare anche Santa Maria e ancora il recupero palla dello stesso D'Argenio quindi ancora Cucciniello se ne può andare gira per il killer e botta se Carizzo si distende c'è il quinto fallo a favore di Viola e quindi c'è Angolo ancora calcio d'Angolo attenzione ancora all'angolo il Golden se la prende col cocciolone partiti inviperiti c'è Cucciniello e ancora D'Argenio anche il killer in campo con il pistolero possono farmare attenzione Palla Lunga ora l'Erminio Mania 30 con l'armeria pesante il doppio killer pistolero a doppio mentre si difende in Mercogliano e adesso è cambiato un po' l'inerzia del match a favore di Erminio Mania vedremo se sarà nei minuti finali agguantare i pari e infatti proprio in questo finale gara mentre se ne va ancora capire mette palla a terra a mo' di cavalluccio di ciucciotto un cavallo pazzo guardatelo lì con una criniera pazzesca gira palla per Spiga che può provare dalla distanza una saletta non inquadra lo specchio della porta dinamite nelle pietre di Spiga che è il mattatore della salata per il momento Spiga di grano una Spiga di grano bella cotta e fatta ovviamente attenzione ancora D'Argenio non è finita è lunghissima gira per il killer circa un numero poi tenta di tirare un avversario lo manda a farfalle poi c'è angolo movimento a pendolo lo manda prima a funghi e poi trova una banana alla terra manca pochissimo alla prima frazione di gioco realmente amici miei ve lo dico con certezza eccolo qui c'è ancora D'Argenio giro palla veloce il killer beccato in pieno il coccolo dice no tutta giusta ancora calata fiore tenta ma facile tenta una bicicletta spaziale si spezza la catena incredibile nostro calata fiore attentato il numero la partita dura una mezz'oretta ormai ci vogliono le bombe da Sicilio in campo chiamiamo un'ambulanza i 118 ce la fanno più chiamano fine gara devono giocare fino a domani sera non lo sanno attenzione ora ancora Cicciottello Gabbino di Reggio guardatelo là un passio a Nash pangolo sembra appena appena ororo uscito dal cenone di Natale un passaggio e poi affanno un passaggio e s'affanna Cuccini e non vede l'ora che finisca la prima versione di gioco angolo attenzione al recupero può partire Killer un 3 contro 3 c'è anche il Golden sulla corsia opposta eccolo qui Golden di esterno anche lui non inquadra lo specchio della porta ottima opportunità non ci siamo non ci siamo e si realmente storti mio anche tu in live attenzione evangelista ovviamente c'è Targenio gira sulla corsia destra o sinistra il Golden la gira per il Cucciniello anche lui un pochettino attanagliato come uno schiaccianoce non riesce a metterlo nel salto attenzione Golden Rizzo miracoloso una parata modiana conta Rizzo solo a pensieri il mio Rizzo pazzesco attenzione al recupero palla c'è ancora il Killer ora se ne può andare un 3 contro 2 giro palla veloce perde un'occasione importante e c'era forse falla attenzione sembra la saponetta in compucio il del sorbo cambia passo tutti a terra amici miei sembra mai dire gol tutti giù per terra e i cochioloni a loro che fanno mettono fine gara alla prima frazione di gioco tutti a prendere un dè freddo un dè freddo caldo bagno maria un dè caldo è troppo quindi meglio così 4 giocatori a terra modi pista da pattinaggio per i cochioloni non è nulla ma è San Michele Summer Cup o è calcio saponato sembrava il calcio saponato tutti a terra comunque che dire una prima frazione a dir poco movimentata anzi agitata i cochioloni a modi scintille stanno vedendo realmente frizionare i giocatori in campo e ci sarà la seconda frazione di gioco